Pat Remondegui 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 e sistemare in questa settimana questi problemi e magari passare alla fase successiva. Da Adriana Serrazzanetti a questi bambini che differenza c'è? Ah no nessuna, sono tutti piccoli Adriana che piano piano stanno diventando realtà. Il tennis cresce sempre di più in Italia, merito vostro, di voi tecnici e di un movimento in grande crescita? Sì sicuramente il movimento in grande crescita molto dovuto secondo me al supertennis, il supertennis ha dato una spinta grossa e quindi secondo me ha fatto diventare più grande la passione. Un consiglio per un bambino che voglia avvicinarsi a questo magnifico sport? Il consiglio è di provarci, di avere un sogno e provare a realizzarlo. Sergio Francese è delegato FIT della provincia di Potenza, Federazione Italiana Tennis, Patre Mondegui, nuova settimana a Melfi, come sta andando? Come sempre molto bene, quest'anno tutti i turni dei ragazzi sono pieni, ci hanno raggiunto ragazzi della provincia di Tarando, della provincia di Bari, oltre che di Potenza, Matera, per cui siamo molto soddisfatti anche quest'anno di una grande settimana di tennis intensivo. Continua a crescere il tennis in Basilicata ma anche a Melfi in questo circolo tennis? Sì, risultate sempre molto importanti, soprattutto in Basilicata, quest'anno in Coppa delle Provincie con la Puglia abbiamo veramente ben figurato, non era mai accaduto negli anni scorsi.